Siamo qui a Bucsofia, ci vuoi raccontare un po' questa storia che è protagonista di questo evento? Noi siamo qui per testimoniare la vicenda che ha portato mio padre, prigioniero di guerra, nelle isole Orcadi, dove insieme ai suoi compagni di prigionia ha realizzato un segno di speranza, di pace, proprio nel momento più tragico della sua vita, dopo essere stato catturato in Libia, ha circonnavigato l'Africa con tutti i prigionieri italiani e portati lassù in un mondo completamente diverso da quello d'origine, eppure lì hanno coltivato la speranza, il desiderio di ritorno, il desiderio di pace e questo è stato possibile anche grazie all'interazione con i comandanti del campo, con la popolazione locale, per cui ecco già un superamento delle fasi del conflitto all'insegna di una comune fratellanza che ha permesso appunto un grande sforzo collettivo, dove mio padre ha avuto un po' il ruolo di ideatore, ma insieme a tanta altra gente, questa piccola chiesetta che ancora oggi è l'unico edificio di quest'isola esolata, in mezzo al mare del nord, la chiesetta della pace. Bellissimo, un bel messaggio che oggi quanto più che mai è attuale. Grazie per questa estima di Anzi, da Positano News, grazie. Sì, è qua.